Cancelli da solo, oppure si dividono di nuovo? Eh no, vedi? Noi prendiamo il cancello a ovest. Dobbiamo sbrigarci, signore. I re di vivi sono già entrati in città. Immagino che sarebbe una scelta spericolata metterli sotto con silve... Eh, in modo silvero, usando il carro armato runico. Già, cattiva idea. I cittadini sono già terrorizzati. Buona fortuna, sei... Lascia fare a noi. Chi altro verrà? Eh, vedi? Devo fare di nuovo tre parti. Ah, e allora è qui che effettivamente potrebbe scattare il triplo boss. La parte del triplo boss. Ah, chi avevo messo prima? Allora, la maga. Milana. E poi, chi ci avevo buttato? Ah, Yugo ci avevo messo. Però al posto di Yugo, chi possiamo mettere? Sì, vabbè, lo posso mettere, Yugo, effettivamente. Sì, dai, mettiamo Yugo. Mettiamo Yugo. Yugo, Yugo. E come aiuto mettiamo... Mettiamo, mettiamo, mettiamo... Lui. Che aumenta la velocità. Va bene. Bene, iniziamo. Subito, tenente. Ha sempre voluto essere un aiutante ficcanaso. Sono felice che stia diventando come nuova. Ah, quindi possiamo già andare. Eh, ma ci sarebbe anche la locanda. Madonna, quanto sono lento. Eh, dobbiamo andare per forza Ovest. Ma io volevo andare alla locanda per recuperare gli MP perché sono... Ah no, me li ha recuperati tutti. Ah, ok, perfetto. Pensavo non avesse recuperato MP e roba, quindi... Quindi va bene. Piano piano, con la nostra calma. Piano, piano. Non serve a nulla, non possiamo uscire. Ma non arriveremo mai agli altri cancelli. Indietro, ci occuperemo noi di quella creatura. Ma... Tu sei un soldato imperiale. Sono Sein. Sein Kessling. È lotto per l'alleanza. Adesso lascia fare a noi. Ah, vedi? Eccoli, tre boss. Allora, minchia, avevo ragione. Non era nella montagna, ma li hanno messi qui. Domestica ridiviva. Allora, vai. Incominciamo così. Allora, illusione esperta. Allora, lui intanto. Perché lui la combo la vuole da tre, ma vabbè. Qua facciamo così. Qua facciamo così. Tu fai così. Ehm... Bella sta host. Madonna mia. Ma vabbè, ma sono però scarsini, eh? Se riesco a fare tutti sti danni... Minchia. Scherzavo. Beh, in che ora perdo il berserker, però, con lui, così. Allora, lui l'oggetto lo utilizza prima. Quindi... Facciamo così. Perché ora lui non è berserker. Non lo prende il berserker. Non lo prende più una volta morto. Eh, infatti. Ma porca pararetta. Era ottimo. Oh... Ma facciamo recuperare gli HPS in... e facciamo anche il power up diamogli il power up cerchiamo di renderlo offensivo al punto giusto va bene minchia si recupera gli hp la zoccola allora aspetta yugo yugo è praticamente quasi morto quindi lo curiamo fai meno danni tu ero in 101 616 oddio va bene lei fortunatamente attacco una volta sola quindi non è un grossissimo problema se non fa danni a o è pesanti la possiamo gestire tranquillamente ecco ok però hp gialli quindi va bene il fatto è che praticamente questo attacco che lei fa ha la possibilità di one shotare uno perché ce l'ho anche io questo attacco così quindi è quello il problema se ti one shotta so cazzi allora tuo oggetto sei lento però allora se tu usi l'oggetto è però quella attacca prima di tutti ah no vabbè ma se uso la medicina questa qua ok e tu puoi recuperare hp a tutti tanto diciamo che la coda di finisce recupera 200 hp che sono abbastanza sufficienti per poter sopravvivere a qualche attacco diciamo se non lo di shotta ecco 181 buono però lei si è curata 191 vedi lei si cura ok hp rossi va bene è morta dai quando è hp rossi è praticamente morta quando è rossi è praticamente morta ciao sheldor bentornato morta bene runa degli abissi quindi la magia massima oscurità abbiamo preso ottimo ottimo ah vabbè ok bentornato lo stesso uguale ce l'avete fatta grazie grazie potete ringraziarmi dopo adesso scappate forza l'esercito imperiale potrebbe arrivare da un momento all'altro se vedete qualcuno vestito come noi giratevi e andate dalle direzioni apposta capito lo faremo grazie di nuovo effettivamente loro potevano cambiarsi d'abito ormai che sono dell'alleanza è strano dire alla gente di stare lontana dai miei conterranei ok ora ci sarà marisa col gruppo dei guardiani della galassia dobbiamo andare facci strada allora dove fichi il naso noi ti seguiamo bisogna stare allerta non possiamo sapere quando le forze del duca raggiungeranno la città e se vogliamo ridurre al minimo le vittime tra i civili dobbiamo essere veloci chi altro verrà ok siamo gli ultimi noi manchia voi siete quattro addirittura è vero che vi posso mettere da di lato però potrebbe essere un'occasione per farvi salire di livello quindi mettiamo ovviamente reina è la nostra mitica e magica isha dov'è isha ehi dov'è a isha isha oh che cazzo è finita la mia eccola la mia la mia magica ascella incredibile super super op allora nuova lo piazzo dietro reina così se succede qualche attacco eh lo para reina anzi no mettiamo isha dietro reina che è quella che cura nuova lo mettiamo da questo lato e qui invece chi mettiamo qualcuno che possa ecco per riel che mi può aumentare gli attacchi se sei attivo ovviamente perché non è detto ok quello è est quindi marisa è l'ultima speriamo che ci siano nemici che fanno oddio ma tu sei un personaggio che ci fai qua ah ma tu sei quella che era sposa va tutto bene oddio perdona mi stavo riflettendo ad alta voce sei un viaggiatore buongiorno non sono altro che un'umile volpe che se ne sta seduta tranquilla e mi agendosi in un fiume di ricordi beh mi chiamo nuova posso fare qualcosa per aiutarti sei gentile a chiedermelo questo deve essere un segno del destino perché francamente sì mi serve aiuto sono proprio nel bel mezzo di un viaggio personale che mi sta consentendo di risvegliare il mio potenziale come sposa semplicemente grazie alle competenze culinarie ecco lei è una di quelle che dovevo reclutare ti stai per sposare congratulazioni ma non è rischioso viaggiare da sola oh cielo no non ho ancora incontrato l'anima gemella e per quanto riguarda il pericolo non devi preoccuparti io e la mia lancia possiamo respingere qualsiasi cosa eccola era lei io che l'ho cercata in giro per tutto il mondo tuttavia mi vergogno un po' ok tagliare col coltore non è stato semplice per me così ho provato con la mia lancia e ho spaccato il tagliere in due anziché cuocere a fuoco lento metodo alquanto inefficiente ho alimentato il fuoco come non mai producendo nient'altro che carbone la mia zuppa di miso una pietanza fondamentale una poltiglia salata e con i dolci degli ammassi con tutte le sfumature tranne quelle che dovrebbero avere scarseggiano è un efemismo dopo averle fatto perdere le staffe mia madre mi ha mostrato la porta e mi ha detto di non tornare prima di aver imparato le basi della cucina ed è così che questa volpe è stata rilasciata nella natura vuoi semplicemente imparare a cucinare? oh no al momento non sono abbastanza incapace l'oggetto che cerco spero mi aprirà la mente e mi aiuterà a capire meglio i miei problemi l'oggetto che cerco? cosa stai cercando? non ricordo bene qualcosa che ho mangiato da piccola se solo riuscissi ad averne un altro assaggio potrebbe far scattare qualcosa dentro di me ma in me dopo tutte le terre che ho visitato non riesco neanche a ricordarmi il nome figuriamoci il sapore ecco cosa posso dirti aveva un sacco di verdure e tale era il suo sapore che anche un solo morso risollevava lo spirito e sapeva un po' di pesce anche se non ne conteneva forse ce l'ho il piatto non è che sai di che cosa si tratta? ecco ma credo che corso possa aiutarci vedo che riesco a capire di cosa si tratta aspetterò qui e mediterò sul mio futuro no ma ma io ti devo reclutare ma scusa ma se torno indietro no aspetta ma posso teleportarmi? no ovviamente cazzerei io a quel punto dovremmo essere vicini eccolo uuuh fai attacchi fisici tu godo è una specie di samurai quindi fa attacchi fisici libereremo la strada un attimo bene qui reina la possiamo sfruttare al 100% con la super host incredibile reina è tutto tuo parapan parapan ok tu intanto fai fonte della tempesta così passano tutti davanti aumentiamo la velocità quindi questo è tutto no merda reina però devi parare gli attacchi eh va bene che nuova spacca tutto che è un piacere che è troppo forte però però nuova cerca di quindi vediamo quanti turni in quanti turni lo shotiamo questo con nuova super op counter no niente niente non la fotteramo iksu vai reina facci vedere quant'è profonda la tana del bianconiglio uniglio in questo in questo lo one shotiamo mi sa penso che sia già morto tra poco no minchia reina che dobbiamo fare minchia già con gli hp gialli reina devi cioè forse non lo fa perché tipo da distante è come se attaccasse da lontano quindi non può counterare aia vabbè dai è morto e niente se non pari l'attacco ti faccio attaccare no tanto vabbè vabbè penso che già sia morto dai to addio madonna noa è una bestia troppo forte l'ho fatto troppo forte runa della perforazione armatura questo è ottimo vabbè vabbè è vero che anche al 57 però che penso sia un livello molto alto rispetto a questa fase però è l'occasione giusta via 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 grazie signore ma tu sei in owa il leader dell'alleanza oddio sono famosa ci siamo già incontrati no ma parlano tutti di te non vedevo l'ora di incontrarti buona fortuna signore beh ma guarda un po' il mio ragazzino è diventato l'idolo degli altri ragazzini smettila lian cosa non c'è nulla di cui vergognarsi forse il cancello è aperto adesso dobbiamo tornare indietro ok abbiamo il cancello a sud sbrigiamoci e facciamo uscire i cittadini prima che arrivi il nemico una passeggia no mica devo portarmi anche loro oh no loro sono gen 5 ok chi altro verrà allora io qua mi porto momo che è comunque fortissimo il problema qui chi portiamo fammi vedere che abbiamo di interessante qua portiamo Cassius il problema è un altro è un altro solo che in realtà ecco se lo faccio così io qua posso mettere qualcun altro e io potrei effettivamente portare chi chi minchia porto eh nessuno mmm Oddio potrei portare Potrei portare Garu che almeno È un po' più Sì portiamo lui Allora loro devono stare tutti Lontano voi siete invece corto Vabbè niente speriamo di farcela così Sono pronto ad andare Perché diciamo che Marisa è comunque quella buildata meno Rispetto sia a Sein che a Nova Perché Sein e Nova sono fortissimi Le ho fatti fortissimi Una con la runa Berserker L'altro con la runa che aumenta del 50% l'attacco Quindi sono veramente forti Lei invece non gli ho messo niente Lei ho messo la velocità praticamente Perché ho fatto il team Permetti fuga Invece c'è solo fuga Quindi questo team potremmo avere qualche difficoltà Vediamo Speriamo di no Che cosa? Da quella parte Minchia sono in due per giunta Beh cavolo Mi sa che siamo stati sfortunati Eccoli che arrivano Minchia Proprio qua giusto giusto due Me ne hanno messi Ah no sono solo mostri normali però Non sono boss Ah ok Allora va bene Allora va bene Allora lo accetto Eh però dobbiamo eliminare i cosi Oddio questo momento L'attacco a tutti No però preferisco fare più danni possibile Devo eliminare i maghi I maghi li devo eliminare Ok loro non fanno tanti danni Eh quella è morta però Perché giustamente Ha pochi HP Oh Madonna mia Madonna Momo è un mostro Puttana Eva Li ha washottati Li ha washottati Momo è una macchina Oh no ci sono gli altri Adesso è solo il mostro che blocca Ah no forse ora c'è il boss Hai già causato abbastanza i guai Minchia Oh oh ho parlato in fretta Sono l'arcire di vivo di Rad Come osate interrompermi Proprio mentre mi gustavo Questo fantastico miscuglio di urla e grido terrorizzate Avrei dovuto immaginarlo Va bene così Visto che abbiamo una questione da risolvere Con le sue ossa Oh no stupido Non resterò qui a giocare con voi Purtroppo mi è passato l'interesse Invece dovrete divertirvi con i miei cuccioli Preparaci Qua è boss fight però Boss fight più minion Parapam Parapam Eeeh Allora Oh potrei effettivamente fare velo d'acqua Per difendermi Però non ho bisogno di fare velo d'acqua Facciamo di nuovo così Poi tu qua Tu qua Tu oggetto Cerchiamo di curare lei Se ci riusciamo Cosa che vedo abbastanza difficile Così prendiamo velocità Non sono morti Pensavo morissero i due scheletri Madonna mia Va bene Loro non fanno tanti danni Fortunatamente Allora Lenti runiche Eeeh Oddio Pupibu aiuti Pensaci tu Va bene Pioggia di frecce No Spada del dio di fuoco a lui Tu invece ti curi No Devo curare Garu E tu invece Vabbè Quelli moriranno Penso So Baffiamo l'attacco a tutti Così gli faccio lanciare le cannonate Ah 260 Boh Non male Ancora sono vivi i minion Oddio Ho ucciso già il boss Scusa ma che boss fight era Vabbè meglio così Molto meglio così Vabbè attacchiamo normalmente Tanto Non dovrei avere grossi problemi ora Vai Momo A posto Easy Ok Questo è il più facile tra i combattimenti Dipende ovviamente chi avete nel party Però Rispetto a quei due che erano delle vere e proprie boss fight Queste non erano boss fight I tuoi cuccioli sono piuttosto deboli Ora tocca a te Oh capisco Pensate di aver vinto Ma abbiamo appena iniziato a divertirci Eccoci Niente Ritiro Ritiro tutto Minchia Sono proprio carini Addio Oh E godetevi i vostri ultimi momenti di vita Aia Ci sono altri due mostri Bene Che sfiga Aia E con Momo ho finito gli MP Come se non bastasse Eeeh Va bene Ecco Ecco Diamo 90 MP a un alleato E tu giustamente Non puoi fare un cazzo Vabbè Però l'attacco normale 278 di attacco normale Non è male però Ok Qualche danno Lo riusciamo a fare A quello l'ho baffato Sperando che non me lo sciotti Minchia E qua devo curare necessariamente Mi attacchiamo Mi attacchiamo Mi attacchiamo Ah anche tu hai la magia d'acqua E allora Oddio È che forse tu curi un po' meno Ma vabbè Facciamolo lo stesso Tutte e due Sti cazzi Bello Critico Così non rischiamo Madonna mia Bello Buono 500 a botta È ottimo Allora Tu fai Bell'attacco Anzi No fai Colpo magico Raffica di magia Trasvolvi i poteri magico E attacchi una fila di nemici Difendente rapido No Attacca normale Attacca normale Tu Recupera MP a Momo Tu recupera MP a Momo Ah no Aspetta Il cazzo Recupera HP a Momo Aspetta Ecco Facciamo così E tu attacco Critico 423 Eh Momo La devo utilizzare Come DPS Proprio pesante Non la shottare Ok Forse No 243 No Ok Ok Lui è giallo Come HP Benissimo Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Giustamente non me lo fa fare Perché non c'è l'IMP Vabbè prossimo turno Gli possiamo fare un altro bot da 500 E lo ammazziamo Se non lo ammazziamo già adesso Ecco vedi già qua Bel criticozzo Va bene Se te la prendi con lei va benissimo Lei almeno è infatti Vedi il rosso come HP Quindi va benissimo Vabbè penso che muoia già adesso Ok morto Runa del colpo basso Colpo bassino così Pa pa pam Bene È finita giusto? Dimmi che è finita Non riesco a credere che quel vigliacco sia fuggito di nuovo Giuro che la prossima volta che lo vedo Ehi Neanche io lo sopporto quel tipo ma bisogna stare calmi Dopo tutto quello che ha fatto al nostro villaggio La pagherà per quello La pagherà cara Ma non è la ragione per cui siamo qui Ce l'hanno fatta Siamo liberi I guardiani ci hanno salvati Ok Dimmi che questo non ti fa sentire un po' meglio Sì Va bene Voglio dire Quel cavolo di reddivo la pagherà per quello che ha fatto Yarnan Ma intanto occupiamoci dei problemi più urgenti Va bene per me Forza torniamo indietro Spero che siano tornati anche gli altri Com'è andata Marisa? La fortuna non era dalla nostra Come dice di solito Wave E ci abbiamo messo più del previsto Ma abbiamo fatto uscire i cittadini Spero che riesca a mettersi in salvo più gente possibile Che la fortuna sia con loro Quindi è il nostro turno Giusto Andiamo dalla città di Due Corni a est Poi usiamo il traghetto per ritirarci a Euciris C'è un traghetto? Dobbiamo attraversare il grande flusso tra Norris, Tare ed Euciris E' di poco agitato Il viaggio sarà piuttosto scomodo Perché non usate quella specie di teletrasporto di carry? Va bene per i piccoli gruppi Ma non riusciremmo mai a spostare tutti i soldati in tempo Eh, hanno contestualizzato anche il fatto di non poter utilizzare il teleport Quindi ci saranno delle robe da fare di trama possibilmente E con tutte le vittime che ciò causerebbe Non riusciremmo mai a ristabilire le forze del nostro esercito Già, ma io non perdo completamente la speranza Qualsiasi cosa che decidiamo di fare Dobbiamo essere veloci Gli eserciti dell'impero di Kenan si avvicinano sempre di più Giusto Quindi dobbiamo combattere anche i draconici adesso Hai rapporto, soldato? Minchia E' impossibile che i loro soldati siano fuggiti tutti Trovateli e li voglio vivi Se è possibile Sì, signore Ora loro si opporranno Generale Vordis, io... Parla Ma è davvero giusto così So che non dovrei dubitarne ma Non dire altro Per ora facciamo quello che dobbiamo fare Non possiamo sapere se la fuga li salverà O se segnerà definitivamente il loro destino Vedi, loro stanno combattendo dall'interno Perché li vogliono catturare vivi In modo tale, magari, da poterli anche salvare L'esercito di Kenan è dentro la città Anche prima del previsto Considerando che non abbiamo ancora finito di radunare le nostre tuppe Non va bene Magari alcuni di loro stanno provando ancora a raggiungerci E allora sarà meglio guadagnare tempo Buona idea Mi occupo io di loro mentre voi... No Cosa? Ecco, io ci penso io Devo chiederti di lasciare che ci pensi io Ma posso farcela Vuoi proteggere la gente, giusto? Se è così, la cosa migliore da fare è andare via con gli altri e tenerli assicuro E ora loro qua si reclutano per trama Sia lei che anche Maxim Ma posso... Ricordi quando all'incontro hai detto di voler proteggere il più gente possibile? Iresalas si è messo a ridere E Valmuris ti ha accusato di mentire Ma io vedo che sei una persona sincera E credo che desideri come i tuoi abbiano il potere di unire le persone Adesso capisco cosa ha visto in te la contessa per Riel Quando una nobile come me manifesta alti ideali La gente è veloce a individuare l'ipocrisia e le bugie Ma quando parla Noa... Eh minchia, scappiato per sbaglio Ed è per questo che devo occuparmi io di questo posto Ci sarà bisogno di te, Noa Più e più volte Fuggi oggi per guidarci verso la vittoria domani E poi ho dei debiti da ripagare Perché è un ordine del re? In parte sì Electra Dai Noa Se continui a rifiutarti mancherei di rispetto alla decisione del generale Va bene Bene Allora andiamo verso due corni a est Che la fortuna ti sorrida generale Electra Ah no, forse dopo che loro difendono si uniranno a noi Non insistere più del dovuto generale E' Maxime che forse si unisce Oppure lui rimane Ma penso che lui rimanga pure Maxime, prendi i due soldati e vai Non ci penso proprio Un guerriero di non ristar non abbandonerebbe mai il suo generale Te lo chiedo come favore personale Dopo essere rimasta orfana a causa della guerra Questa città mi ha accolto a braccia aperte A Re Salas non interessavano le mie umili origini E mi ha fatto diventare sua generale Avrebbe continuato ad essere un bravo re Se solo avessimo avuto la pace Comunque Devo ripagare il mio debito nei suoi confronti E nei confronti della città che ho miseramente fallito di proteggere E' giusto che sia un'ultima persona ad attraversare questi cancelli Maxime E' quello che voglio Capisco Nessuno di voi è costretto a combattere con me Se volete scappare vi lascerò andare Non ci penso proprio generale E visto che abbiamo parlato di favori personali Ne ho anch'io uno da chiedere Oddio si è dichiarato così Non abbandonerò la donna che amo Voglio restare qui e lottare fino all'ultima goccia del mio sangue Ma Maxime Ma cosa Ehi non è giusto capitano Voglio lottare anch'io per il generale Anch'io Grazie a tutti Minchia Grandissima frase d'effetto Tipo Steiner con Beatrix praticamente Grazie a tutti